allora buongiorno buongiorno a tutti oggi siamo qui a lucca dove ho organizzato un incontro per parlare di oro e di oro etico ora poi preciserò cosa intendiamo dire con loro etico principalmente sono qui nel palace hotel di lucca via san polino chi non ha ancora visitato la città invitato a visitarla perché non perché sono lucchese ma lucca una città insomma medievale molto bella eccetera eccetera prossima settimana ci saranno anche comics che è un evento internazionale ma è diventato famosissimo è la manifestazione del fumetto no inizialmente iniziata come fumetto ma ci sono anche tante altre attività bene allora io ho intitolato questo intervento il primo congresso internazionale sull'oro etico vediamo di chiarire subito perché l'ho chiamato oro etico chi opera nel settore sa bene che il termine etico va un po preso con le molle nel senso che ci sono purtroppo ancora molte nazioni che estraggono oro senza seguire una certa eticità quindi certe precauzioni certi materiali e quindi questo oro qui comunque sia poi per esempio in Africa finisce a Dubai e dove riciclano tutto quindi l'oro etico deve essere inteso in questo senso intanto la Svizzera sappiamo che è stata la prima credonazione no a proporre tutta una serie di iniziative per cercare di sfruttare meno eh sia gli operai che utilizzare materiali più naturali senza mercurio senza processi che sicuramente intossicano anche il terreno e e poi deve essere intesa in questa maniera io adesso vi leggo proprio due righine che secondo me sono molto importanti per definire anche cosa intendo io per oro etico l'oro etico si basa sull'intesa etica perché se siamo qua oggi si parla di oro è perché comunque sia tutti noi direttamente o indirettamente abbiamo interesse a comprare un po d'oro o comunque sia a capirne di più ricordo che io ho scritto quattro anni fa un piccolo report sull'oro un va de mecum all'acquisto che potete leggere gratuitamente sul mio sito a mente aperta punto net proprio perché mi sono reso conto che se uno si doveva fare un'idea su come comprare l'oro si può andare da Antonino si può parlare con Claudia però bisognerebbe fare un certo lavoro eh non si può affrontare un acquisto magari importante così per sentito dire ecco quindi ho messo insieme questo report che è anche un va de mecum all'acquisto che potete leggere gratuitamente e che sicuramente vi chiarirà almeno tutta una serie di questioni di base per poi affrontare l'acquisto in maniera come si dice consapevole per quello che mi riguarda ho fatto ho scritto insieme eh al mio amico e avvocato Marco o quello che ho chiamato un'intesa etica no? Che cos'è l'intesa etica? Ve la leggo il dottor Max che poi sono io eh riconosce come principio fondamentale rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e si impegna nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'esercizio delle rispettive attività a rispetto di tutte le norme degli orientamenti giuridici in cui opera il rapporto tra il dottor Max e diciamo clienti amici eh clienti amici deve avvenire da entrambe le parti con onestà correttezza e responsabilità nel pieno e sostanziale rispetto delle regole dell'etica professionale chiarezza e comprensibilità devono essere alla base delle azioni della comunicazione e dei rapporti giuridici e interpersonali per consentire ai clienti amici di fare scelte autonome responsabili e consapevoli ecco questa qui è una cosa alla quale io tengo molto nei miei rapporti professionali perché tante volte si danno le cose per scontato eh per scontato non c'è niente eh ricordate la pubblicità eh io a scatola chiusa con professora Rigoni eh lasciamo perdere le pubblicità bisogna affrontare le cose credo in maniera responsabile quindi bisogna io lo ripeto spesso studiare bisogna dedicarsi all'argomento se uno lo vuol far bene e poi scegliere io lo dico sempre scegliete l'azienda che vi piace di più allora detto questo beh una brevissima presentazione di chi sono io no eh io non so più nemmeno come mi chiamo perché originariamente mi chiamavo Massimo Michele Guerrieri mia sorella è qui presente non so se sai la storia si scordarono di mettere una virgoletta eh eh e chi mi chiamerei Massimo Michele Guerrieri poi fu corretta successivamente tant'è che il libro l'ho scritto come Massimo Michele Guerrieri il libro sul sul nuovo ordine mondiale anche perché c'erano altri autori col mio nome e allora hanno volevo fare pasticci e poi quindi dal mio nome Massimo Guerrieri siamo con un'evoluzione un po' anche curiosa siamo passati al dottor Max che il dottor Max dal punto di vista legale ve lo dico in confidenza tanto non ci ascolta nessuno o siamo in pochi non esiste il dottor Max anche se ci metti il copyright accanto non esiste però scherzi a parte insomma il dottor Max è una cosa curiosa che poi ha dato vita anche alla fondazione no quella di cui parleremo domani e quindi va bene così però insomma ora scherzi a parte dicevo io ho passato 20 anni in America mi sono occupato di tante cose infatti io credo che l'approccio debba essere sempre quella a 360 gradi cioè più cose tante volte nella vita si fanno e più cose si imparano poi naturalmente mi sono specializzato in un programma per perdere peso che ho portato in America ho ottenuto il brevetto anzi sarebbero tre brevetti ho fatto una pubblicazione su una rivista scientifica poi è successo quello che è successo come si sa altre volte nella vita le cose cambiano e poi alla fine mi sono ritrovato in Tanzania sono andato là a fare una visita e mi sono trovato molto bene nel frattempo proprio scrivendo la trilogia mi sono accorto che c'era qualcosa nel mercato soprattutto finanziario di Wall Street e io l'ambiente lo conosco bene perché ho conosciuto persone la mentalità eccetera mi sono mi sono reso conto che c'era la solita bolla speculativa quella bolla che poi nel 2008 è passata alla storia come subprime anche se il subprime inteso come causa del problema c'entra poco niente comunque adesso non dobbiamo parlare di questa cosa qui quindi io poi dopo ho un po di risparmio ho messo qualche cosa in questa azienda tedesca che è tipo banco metalli no banco metalli tedesco che si chiama Uvesta mi sono trovato bene e da lì poi ho collegato l'investimento possibile investimento di chi già mi seguiva sui miei canali con il piano B il piano B sarebbe poi il progetto di cui collegato alla fondazione di cui parleremo domani e lì ho iniziato a fare un po' di produzione mi sono trovato bene allora diciamo che come dico sempre le aziende perfette non esistono io per il mio lavoro ne ho conosciute qualcuna no non solo in Toscana anche in Italia e quindi bisogna capire che ecco come sempre la perfezione non esiste ma esiste l'eccellenza no quella che è una parola un pochino accabusata oggi e diciamo che con tutti appunto i limiti che sono io il primo no a riconoscere no a questa azienda tedesca è quella che dal punto di vista della credibilità e della flessibilità è quella che mi ha dato quella che ha praticamente mi ha permesso di operare così come volevo operare io perché qui poi noi siamo in compagnia di due aziende che per certi aspetti completano la mia proposta perché io non rappresento solo un'azienda io come operatore di marketing sono consapevole che molte persone hanno esigenze diverse persone hanno esigenze diverse ognuno vuole comprare come una maniera come vuole comprare non è che insista io che no non mi riesce a ragionare così ecco quindi faccio una breve intervista a chi mi contatta a chi vuole comprare oro e a seconda delle esigenze io suggerisco un'azienda una soluzione o un'altra soluzione in maniera molto libera molto semplice perché non c'è non c'è nemmeno ci sono nemmeno fi diciamo non una consulenza sull'oro è gratuita e di lì poi si inizia a fare un certo tipo di discorso allora l'oro ha fatto mi sembra l'ultimo anno siamo intorno al 43 45 per cento di incremento in giusto grosso modo siamo a quella cifra lì mi hanno detto grosso modo in arco di due anni due anni ok vabbè comunque è in forte crescita questo non deve meravigliare perché purtroppo quando le coste non vanno molto bene le persone anziché fare i soliti investimenti si rifugiano o no si dice bene di rifugio per eccellenza nell'oro però io ricordo brevemente che l'unica vera moneta è l'oro cioè poi nel 1913 con la fondazione della ma anche prima diciamo della federal reserve in america hanno creato il dollaro e da lì poi il dollaro piano piano è diventato l'oro no ma non dovrebbe essere così forse non per molto però chissà cosa si inventeranno i proprietari della federal reserve e che sicuramente hanno fatto un'enorme quantità di soldi nel frattempo e che la maggior parte dei quali vi posso dire non sono americani però tazzito non diciamo la voce bassa ecco e e e e e e quindi si giustifica in questo caso no questo boom dell'oro boom che in un certo senso io prevedo che continuerà continuerà per una ragione molto semplice l'oro non è un bene così diffuso in natura ci sono sicuramente anche dei limiti legati ai costi di estrazione per cui magari si sa che c'è ma non conviene estrarlo almeno per il momento e quindi è l'unica commodity affidabile è l'unica cosa nel momento in cui si non si può più investire nella borsa perché la borsa ha questa situazione di grande volatilità se si va incontro un'altra crisi come sappiamo si rischia di perdere tutto la proprietà immobiliare come ci ha ricordato due anni fa anche il papa il viscovo di roma non è più così discutibile si può mettere in discussione anche quella il trend è effettivamente quello proclamato più volte da shrub del world economic forum non possederete niente ma sarete contenti quindi il quadro che loro e l'agenda che loro hanno è quella di levarci tutto non voglio fare adesso direvi cose per creare panico assolutamente chi mi conosce sa che sono una persona molto tranquilla e non mi piacciono questi questi annunci così però effettivamente il trend sarebbe quindi bisogna essere un pochino tutti consapevoli che c'è un discorso di investimento in oro direi quasi dovuto come diversificazione del proprio patrimonio ma c'è anche un discorso proprio di gestione patrimoniale cioè io mi occupo anche di un po di consulenza per coloro che dicono beh ho venduto una casa o comunque devo voglio ho capito qual è la situazione ho un piano per spostarmi all'estero non so se verrò in Tanzania però voglio vendere un certo asset e lo voglio investire in oro e metalli preziosi ecco questa è un pochino la proposizione diciamo così agli estremi no che parliamo magari di tanti soldi quindi detto questo io ho previsto e ci ho azzeccato faccio ma volentieri le previsioni quando quattro anni fa ho scritto report il report ho previsto che sarebbe andato oltre i 70 72 al dollaro e poi io considero sempre il dollaro va bene e siamo oltre gli 80 mi sembrano e non è impensabile ipotizzare che vada oltre cento perché il trend è quello lì se succede la terza guerra mondiale vediamo tutti quello che è la situazione in medio oriente ma con estrema facilità direi ma senza neanche perché poi le banche centrali con i brics continuano a comprare oro e l'oro e non è un bene limitato quindi non occorre essere credo dei geni no ecco questo da naturalmente fiducia a chi già opera nel settore però allo stesso tempo io incoraggio sempre a informarsi a fare qualche cosa ecco e ogni tanto vede ancora molti interessi però c'è ancora una situazione di incertezza e le persone preferiscono tenere i soldi in banca ognuno è libero di fare quello che vuole sui propri risparmi però parlavo proprio la scorsa settimana con mio carissimo amico che adesso fa il consulente finanziario e lui è il primo a dire no i soldi non vanno mai tenuti in banca così o si investono o si fanno si si fa qualcosa di di diciamo così di intelligente allora io concludo il mio intervento poi voglio lasciare poi tanto ci si ritorna successivamente eventualmente ricordando quelle che sono le cose fondamentali nel momento in cui si considera un acquisto indipendentemente da oro o non oro parliamo di oro i passaggi sono tre acquisto oro quindi prezzo di acquisto dell'oro e quello tutti lo capiscono ecco poi c'è il passaggio successivo stoccaggio dell'oro e qui cominciamo già entrare in difficoltà se volete se ne parla dopo è un aspetto altamente sottovalutato in italia invece deve essere capito bene bene e poi eventualmente riacquisto perché è chiaro che se ne parlava prima no miette se e si deve poi rivendere l'oro un discorso è andare a venderlo al compro oro il discorso è andare da antonino ma la gente non sa che si può rivolgere a un banco metalli noi a determinate condizioni che sono sicuramente più favorevoli conviene venire da te piuttosto che andare a un banco metalli ce ne parlerai dopo te però sono questi tre i passaggi e cosa intelligente è fare una selezione delle aziende quelle due tre aziende che insomma sulle quali magari ecco volete magari investire i vostri denari considerando questi tre aspetti senza tralasciarli tralasciarne nessuno va bene allora la prima cosa e questo ve lo dico perché la prima cosa che ho notato e dico questa cosa qui poi chiudo è che per esempio la maggior parte di chi acquista oro non legge il contratto va a fiducia ora questo si può fare al comprare la macchina grossomodo siccome c'è non è che uno si mette a spulci comprare la macchina tratti il prezzo e il deposito non c'è perché la tiene a casa vedete quando quando ritorni sai che c'è c'è un ammortamento la macchina ha perso qualcosa grossomodo è una cosa che è abbastanza ben conosciuta quindi grossomodo grossi rischi non ce li hai e i rischi ce li hai se compri una macchina elettrica scusatemi non voglio dire cose brutte perché ecco però dobbiamo sempre rispettare tutti io personalmente non comprare mai una macchina elettrica comunque detto questo leggete il contratto chiedete il contratto prima di tutto dopodiché se non siete in condizioni di analizzarlo voi chiedete al vostro avvocato gli avvocati in linea di massima non sanno granché di oro lo sai e quindi si mettono lì magari leggono vi possono dare un'idea così ecco qualora anche il vostro intervocato fosse un pochino così che potete vedete che non ha una grande esperienza mi potete contattare e io vi do la consulenza per quello che leggo nel contratto senza chiedervi niente poi fate voi ecco se volete una mia opinione vi do comunque la consulenza gratuita è chiaro che è una cosa abbastanza semplice da fare perché non mi potete chiedere un intervento che prevede no cose ovviamente che richiedono ore e ore di lavoro però io la consulenza e credo di essere l'unico consulente in italia che fa questo lavoro poi se vi fidate di claudia e di antonino benissimo perché loro sono già stati filtrati da me se sono qui vuol dire che van bene se non ci sarebbero è bene essere chiari quindi però chiedete comunque il contratto e leggetelo bene dopo di che procedete all'acquisto una volta che avete capito bene che siete rassicurati poi i contratti si possono anche emendare cioè io faccio un certo tipo di investimento a un cliente grosso e vado da 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 claudia vado da antonino e di quanto antonino io ti do un milione di euro se mi devi fare un prezzo speciale perché quindi i contratti si possono anche discutere si possono correggere si possono rivedere a seconda dell'investimento che uno fa io mi fermerei qui per il momento e darei la parola secondo quello che abbiamo deciso ad antonino prego antonino prendi tutto il tempo che vuoi grazie noi ci siamo già sentiti ospite del voce del ritor max rappresento a z metalli preziosi è un banco metalli che opera a valenza che uno dei tre distretti orafi importanti in italia c'è anche a rezzo e vicenza e noi operiamo in questo settore da 40 anni più di 40 anni abbiamo una esperienza nasciamo come supporto ai fabbricanti orafi valenziani poi con la dar del tempo ci siamo fatti la nostra esperienza per cercare di approvvigionarci direttamente nei paesi produttori di metalli preziosi quindi ci siamo fatti una certa esperienza soprattutto in africa dove abbiamo lavorato in 15 paesi diversi abbiamo impostato e organizzato delle fonderie delle raffinerie anche con degli stati africani direttamente e abbiamo cercato di avere appunto questi contatti per poter avere un flusso continuo di metallo da poter poi raffinare e rivendere sia i fabbricanti ultimamente soprattutto ai privati come sta consigliando l'amico dottor max per i privati come investimento sull'oro niente noi abbiamo un sito dove in diretta si vede il cambiamento del prezzo e a seconda delle pezzature produciamo lingotti sto parlando per i privati soprattutto produciamo lingotti da un grammo a un chilo con tutte le varie pezzature un grammo 2 grammi 3 grammi 5 e 10 oncia 50 100 250 mezzo chilo e un chilo normalmente attendiamo che il cliente chiami c'è il nostro numero sul sito ci si mette d'accordo il cliente da i suoi i suoi chiaramente i suoi dati e effetto un bonifico a seconda della pezzatura del lingotto che vuole fare arrivato il bonifico può sia ritirarlo o può aspettare che noi glielo consegniamo gratuitamente dove vuole sia a casa sua o se è una cassetta di sicurezza o dove lui desidera siamo un banco metalli e come banco metalli siamo specializzati in quello che io ho descritto non facciamo deposito perché sono due cose completamente diverse almeno in italia non so se qualcuno lo possa fare ma sicuramente dovrebbe avere una licenza particolare perché sono due attività completamente diverse il banco metalli produce lingotti vende l'oro certificato ai privati può tenerlo per un determinato periodo di tempo se il privato dice vengo tra una settimana perché magari non posso venire subito ma deve essere un tempo limitato e dichiarato diciamo non si può tenere per il nome per conto di un privato del metallo che non è di proprietà del banco metalli anche perché appunto ci sarebbe bisogno di spazi dedicati di una licenza apposita hanno un codice a teco completamente diverso banco metalli da che fa deposito e c'è bisogno di una struttura diversa ci sono strutture di spedizionieri che fanno questo lavoro ma è un noi al limite potremmo consigliare se qualcuno desidera fare questo questo tipo di operazione ma va fatta staccata dal fatto di poter separata dalla dall acquisto del metallo questo per chiarire la differenza tra l'acquisto e lo stoccaggio e niente questo per quanto riguarda l'attività di vendita di oro da investimento penso ad aver dato un'idea di quello che facciamo di quello che si interrompo ecco ricorda il discorso dell'argento perché prima non avevi l'argento esatto dato che appunto stanno tutti i giorni purtroppo stiamo vedendo dei record nuovi dell'oro e ha chiuso ieri al mercato 80 euro e 50 chi vuole fare un regalo un presente magari non ha intenzione di investire cifre importanti ci siamo organizzati per fare anche i lingotti d'argento li facciamo tre quattro diciamo pezzature facciamo l'oncia il 50 grammi il 100 grammi 250 al mezzo chilo al chilo sulla sull'argento c'è l'iva di tutte le misure mentre sull'oro l'unico lingotto con l'iva e quello da un grammo perché bisogna far sì che o le placchette o i lingotti siano superiori al grano c'è l'iva e quando il privato acquista acquista con l'iva c'è il problema che quando se dovesse rivendermelo me lo deve rivendere senza l'iva perché il privato non può vendere con l'iva quindi c'è questa differenza però diciamo che col trend di che ha anche l'argento che venerdì ha chiuso a un euro al grano e anche lì c'è stato negli ultimi due anni un buon 60 70 per cento di aumento di conseguenza il 22 per cento d'iva magari lo si recupera nell'arco di poco tempo e non sono solito dare consigli su quando acquistare come acquistare non mi piace perché secondo me in questo momento ci sono talmente tante variabili che dare delle dei consigli di comprare l'argento al sì che oro comprare l'oro in questo momento sì sono d'accordo anch'io che il trend è in salita però io 44 anni di esperienza e ho visto se nel lungo periodo l'oro sale non c'è da quando c'è la storia da quando è nato il prezzo dell'orsa ci sono dei momenti in cui prende delle belle mazzate io mi auguro che ciò succeda perché vorrebbe dire sicuramente che la situazione internazionale si tranquillizzate questo vorrebbe vista speriamo tutti esatto vorrei che le guerre finissero vorrei che non ci fossero tutti questi problemi e che loro tornassi indietro per questo ci sono delle variabili che sicuramente non c'entrano nulla con le guerre come parlavi tu giustamente i brics stanno organizzandosi per fare una loro banca centrale e non ci saranno più quindi gli acquisti solamente di russia india sud africa brasile che stanno riempendo le loro riserve ma saranno organizzando una banca centrale con alle spalle queste economie e quando parlavo del fatto che donna la vedrà dura io non so se queste economie messe insieme non potranno dar fastidio all'egemonia del dollaro e di conseguenza attualmente secondo me il prezzo del dollaro è drogato da questi acquisti fatti in tutto il mondo la cina dichiara che è il primo paese produttore di oro al mondo nulla contro i cinesi ma non ci credo perché no perché i cinesi sono hanno invaso la l'africa comprano a qualunque prezzo in qualunque modo poi lo esportano da loro e dicono che l'hanno stato a casa loro questo è il giro che secondo me è una mia opinione non è improvvisamente tirano fuori 4 500 tonnellate all'anno mi sembra perlomeno un po improbabile poi posso sbagliare probabilmente loro hanno incluso anche le aziende per esempio cinesi che operano le note africane no qui stiamo parlando di produzione stato capito quello è anche perché il problema di chi come noi cerca di approvvigionarsi in maniera etica legale regolare e che quando ti scontri con delle stra potenze che comprano a qualunque a qualunque prezzo noi andiamo lì per avere un minimo di spreche per guadagnare quello che dobbiamo ma se ci troviamo di fronte a una a qualcuno che ha alle spalle la banca cinese che ha tutti i soldi che vuole e deve riempire le casse cinesi e ho perso in parte nel caso mi conviene stare a caso questo è il non certo però ripeto io credo che appunto sul lungo loro opinione del tutto personale chiaramente aumenterà potrebbe esserci secondo me o perlomeno un assestamento se la situazione internazionale ripeto come tutti ci auguriamo potrebbe avere un diciamo un rilassamento ecco sperando che da tutte le parti ci sia un po di buon senso diciamo un po di stabilità ci stabilità in realtà le che ecco e non può non influire una guerra come quella tra la russia e l'ucraina che dura ormai da due tre anni dove tutte le risorse vengono trasformate in armamenti che poi devono a volte essere pagati in oro incide troppo per non parlare di quella del medio oriente che sappiamo l'economia israeliana quanto importante e sappiamo che condizione può dare in un mercato sensibile come quello dell'oro per non parlare a parte di quella dei diamanti sono scondizionati in maniera importantissima da questi eventi niente se ci sono delle domande siamo adesso il microfono come si dice a claudia prego claudia grazie prego prego grazie massimo eh buongiorno a tutti buongiorno a voi signore e signori eh sia dal vivo che che registrazione eh io sono Claudia Brandoni sono di Ancona eh rappresento la società Elior una società che è figlia di una società svizzera che opera da trentasette anni che si chiama Resonor e diciamo che la mia avventura è partita innanzitutto sei anni fa dando le dimissioni per motivi etici come titolare di filiale in banca quindi ho deciso di lasciare quel mondo oscuro oserei dire che eh purtroppo vive alle spalle dei clienti perché così funziona perché i primi anni non era così quando iniziai tanti anni fa era era veramente un piacere lavorare perché eravamo al servizio delle persone delle loro esigenze poi quando sono arrivati i budget i famosi budget che devi raggiungere a qualsiasi costo tutto è cambiato quindi non importa che il cliente abbia bisogno di qualcosa o non abbia bisogno di qualcosa noi dovevamo piazzare e appiccicare come definisco io del dei prodotti anche se non servivano e anche se non erano di ottima qualità tutt'altro perché erano comunque prodotti che producevano per la banca grandi commissioni quindi io mi ritrovavo tra l'incudine il martello addirittura dovevo eh eseguire ordini dall'alto obbligare i colleghi della filiale presso cui ero la responsabile e prendermi gioco passatemi il termine dei clienti quindi ho fatto una gran fatica ho resistito per un po' poi ho detto che la correttezza e la moralità sono al primo posto non si può per stipendio anche seppur buono seppur una ottima carriera non ci si può vendere e e questa è stata la mia scelta quindi ho deciso di lasciarla sei anni fa nel frattempo avevo sviluppato un piano B straordinario ed etico nel network marketing quindi questo mi ha permesso di cambiare perché se non facciamo nulla non possiamo cambiare nulla e eh quando è successo tutto quello che è successo la pandemia la la farsemia come la vogliamo chiamare ho avuto il piacere di conoscere Massimo perché io e il mio compagno ci stavamo ponendo dei quesiti e ci stavamo chiedendo se era il caso di rimanere in Italia oppure se era il caso di valutare una possibile via di uscita quindi abbiamo avuto il piacere di relazionarci con Massimo abbiamo parlato del progetto poi avendo eh diciamo entrambi dei genitori anziani abbiamo deciso di di non proseguire su questa strada e detto questo poi mi sono resa conto che bisognava togliere tutto dalla banca questa è una mia scelta ovviamente eh non dico che debba essere fatta debba essere sposata però io ho capito essendoci stata tanti anni che non è cosa tenere i soldi in banca perché anche perché la mia banca nel frattempo era fallita ed era stata assorbita da UbiBanca quindi ho perso anche dei soldi avevo investito nelle azioni che si dovevano rivalutare no tante belle storie quindi come me sono rimasti eh bugerati tantissimi clienti quindi era una cosa proprio insostenibile però questo che hai detto è appunto importante eh in teoria dovrebbero essere garantiti no? sapete che i depositi dovrebbero essere garantiti eh invece eh secondo quello che dice eh David Webber che è quell'autore ora molto di moda magari voi non lo conoscete però che ha fatto quel lavoro lì sulla proprietà privata che dovrebbe piano piano scomparire perché tutto i title il titolo di di quello che abbiamo delle nostre proprietà in teoria deve poi andrà a confluire e presso eh all'interno di questi grandi huge font no? di questi grandi fondi di investimento quindi loro avrebbero una sorta di priorità su quella secondo quello che dice lui è meno del 3 per cento dei depositi sono garantiti eh quindi quando vi dicono a livello finanziario io ve lo dico eh che è garantito un titolo garantito lo dicono ancora oggi eh alcuni broker e consulenti finanziari e purtroppo vi mentono quindi siamo proprio fuori da quello che si diceva prima eh parentesi perdonami prego prego ma è proprio così lo abbiamo vissuto in prima persona quindi anzi ci promettevano che la banca si sarebbe rivalutata invece abbiamo avuto un direttore generale di senato che ha fatto dei danni inestimabili ha dato soldi amici dei suoi amici e quindi la nostra banca è fallita ed è stata svenduta quindi forte anche di questa esperienza ho detto che non era più cosa per me e ho conosciuto avevamo parlato con Massimo anche del sia del progetto Tanzania anche del discorso oro e poi ho avuto anch'io la fortuna di conoscere un attraverso un mio amico economista di Milano questa società svizzera eh perché a me piaceva personalmente ripeto è stata una mia scelta il fatto che potessi toccare e vedere il mio oro in qualsiasi momento previ appuntamento quindi recarmi in Svizzera Lugano e poterlo toccare quindi siamo andati più volte perché noi siamo persone molto meticolose insomma ci piace no come diceva giustamente Massimo vedere i contratti valutare farsi una propria idea perché insomma parliamo di risparmi importanti sia personali che familiari e abbiamo trovato una realtà davvero straordinaria sia eh dal punto di vista logistico perché questa questa azienda ha a trentasette anni di onorata storia risiede nella piazza centrale centrale di Lugano ha un cavo di proprietà quindi questo è straordinario io ricordo quando non potevo accedere alla banca quindi venivano gli ex colleghi a farmi firmare sulla porta adesso non so se ricordate ma sono stati momenti davvero bui che non si possono dimenticare io non li ho dimenticati quindi ho detto come è capitato una volta eh non è detto anzi è probabile che ricapiti quindi ho detto io non sono padrona dei miei soldi e non esiste e infatti eh abbiamo poi deciso di investire con questa società e e quindi abbiamo fatto le nostre scelte abbiamo conosciuto i titolari il direttore commerciale arrivo al al dunque quindi questa società opera da trentasette anni con i clienti internazionali e non avrebbe potuto operare in Italia e siccome il direttore commerciale è una persona un po' visionaria lui aveva intenzione invece di portare l'oro svizzero nelle famiglie italiane a tutti i clienti risparmiatori italiani e quindi una mi ricordo una volta uscendo ormai eravamo diventati amici avevamo firmato e sottoscritto i nostri contratti per l'acquisto mi fa dice sai che stiamo rilevando un banco metalli ad Ancona che è la mia città ho detto a Cipicchia particolare questa cosa e quindi loro stavano rilevando il banco metalli ovviamente per poter accelerare tutte le autorizzazioni della Banca d'Italia per poter portare appunto l'oro in tutte le famiglie portare proprio conoscenza e consapevolezza quindi mi hanno chiesto se ero interessata ad operare con loro io inizialmente ero già a posto con l'altra attività poi però mi sono detta ma questa può essere una missione di consapevolezza cioè possiamo aiutare le persone a sapere che c'è un modo per salvare i propri patrimoni per tutelarsi perché io finché sono stata in banca non ho mai sentito parlare di oro perché le banche non hanno alcun interesse a vendere l'oro allora hanno interesse a vendere i loro prodotti dove sanno loro quante commissioni anche occulte guadagnano e quindi è iniziata questa avventura ho iniziato a collaborare con questa azienda noi ci occupiamo esiste da 30 mesi quindi è già un'azienda che sta sviluppando un fatturato importante fino ad oggi ha fatto 7 milioni di fatturato quindi per essere un'attività nuova figlia della mamma svizzera è un risultato straordinario abbiamo migliaia di clienti siamo una rete di 300 gold advisor quindi consulenti professionali quindi una rete diciamo ehm che dentro la quale si entra con determinate caratteristiche proprio per un discorso di affidabilità e di serietà e la cosa straordinaria è che adesso ehm stiamo lanciando un progetto internazionale cioè visto che il progetto in Italia è stato straordinario e noi ci occupiamo soprattutto di piani di accumulo quindi ci occupiamo di eh aiutare le persone a poter accumulare oro mese per mese quindi anche scambiando 100 euro in oro mese per mese quindi la cosa è una cosa molto interessante questa no? Quindi alla portata di tutti e quindi stiamo duplicando questo questo progetto questo business che ha funzionato e continua a funzionare e continuerà a funzionare ancora di più a livello internazionale e addirittura siamo in una fase eh di prelancio perché il lancio ufficiale eh ci sarà il quattro dicembre quindi si sarà possibile acquistare gli stessi prodotti in tutto il mondo e tra l'altro siamo diretti e rivolti anche ad una clientela che è amante della blockchain e delle criptovalute quindi sarà possibile acquistare oro addirittura con le criptovalute e e opereremo nel blockchain quindi coniughiamo eh diciamo tradizione con l'oro con la l'innovazione che è appunto rappresentata da questa tipologia di mercato e addirittura adesso per chi lo desidera c'è la possibilità di partecipare come cofondatori quindi c'è la possibilità di aderire a questo progetto ci sono dei pacchetti diciamo sono si chiamano sharing pack sono di un numero limitato sono 1500 con caratteristiche diverse si parte dai 750 franchi svizzeri fino ai 6000 franchi svizzeri che danno diritto a partecipare al fatturato non all'utile al fatturato che svilupperà questa azienda quindi ci si può creare una rendita passiva vita quindi è straordinario perché si può ehm partecipare ad una società che veramente sarà la prima al mondo in questo settore e si può partecipare come cofondatori quindi ve lo dico diciamo come informazione poi ovviamente se desiderate ulteriori informazioni sono a disposizione perché proprio in questi giorni abbiamo fatto un un incontro e devo dire che stanno andando a ruba perché avere la eh la sicurezza dell'oro perché ci sarà come sottostante l'oro stoccato a Lugano e operare in un mondo dove magari è tutto abbastanza virtuale no il mondo delle cripto al quale dal quale io sono stata sempre un po' lontana perché non me ne intendo e no non c'era concretezza ho detto hanno avuto questa idea geniale di coniugare il tutto ecco quindi a disposizione per tutti voi se desidererete ulteriori informazioni noi abbiamo un video che è proprio la registrazione dell'incontro che si è svolto lunedì scorso per spiegare questa possibilità quindi se volete se vorrete c'è ancora spazio per tutti insomma ci sono ancora dei pacchetti disponibili ma davvero avere eh partecipare al fatturato di un'azienda che avrà uno sviluppo importante può essere qualcosa di di straordinario è una forma anche questa di diversificazione però fatta con un'azienda e con tre direttori commerciali che sanno quello che fanno cioè hanno studiato tutto nei minimi particolari abbiamo dei consulenti a livello internazionale quindi non è la solita start up mordi e fuggi perché diciamo possiamo contare sull'esperienza di 30 mesi di successo in Italia bissarla nel mondo ma con tutti i criteri e tutta la insomma le legislazioni a posto come giusto che sia ecco quindi eh a disposizione per chiunque voglia avere informazioni noi ci siamo benissimo benissimo grazie Claudia allora abbiamo fatto il primo giro iniziamo il secondo allora dunque intanto ricordo che eh il contatto poi che abbiamo ripreso eh pochi mesi fa con Claudia era proprio in previsione di questo lancio internazionale no dalla praticamente dalla dalla Svizzera e e quindi adesso vedremo un pochino gli sviluppi eh l'idea di fondo è quello che secondo me l'oro basto oltre a una certa cifra va stoccata in Svizzera va bene andiamo a dichiarire questo punto qui che tante volte è un po' sottovalutato dunque in due parole secondo e queste cose che dico le ho già dette eh sono tutte caricate sul mio canale di YouTube Massimo Michele Guerrieri dove carico tutti gli interventi dell'oro mentre tutti gli altri interventi vanno sul Rambo ultimamente eh beh quando c'è stata la confisca dell'oro in America eh c'è stato il decreto di Roosevelt e hanno confiscato tutto l'oro nostro diciamo dei poveracci non sono andati a toccare quello dei cavo delle banche è logico quello lì non c'è entrato nessuno non ci può entrare nessuno lì dentro e quindi eh l'idea di e come privati di comprare dell'oro e poi c'è da mandare la comunicazione all'ufficio della UIF no si però c'è la comunicazione che dovete mandare voi sì 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 lo dovete fare voi ecco c'è questa comunicazione ufficiale per cui sanno che avete comprato dell'oro è chiaro che a quel punto l'oro ce l'avete non ha importanza dove lo tenete voi ce lo dovete avere e chi non lo consegnava in America all'epoca aveva una sanzione oltre a avere eh civile e penale aveva una sanzione di diecimila euro dollari diecimila dollari all'epoca corrispondevano a circa duecentocinquantamila dollari di oggi quindi è chiaro che le persone sono state anche un po' costrette poi gli hanno detto tanto non lo rivendi più non lo puoi più rivendere insomma e quasi tutti hanno consegnato loro ecco ora cerchiamo sempre di essere positivi però se si va incontro a una situazione difficile poi servirà al grande reset ora io non so se voi magari chi mi conosce poco non le nota tanto queste cose ma il covid ha determinato il momento covid proprio momento di transazione e ci hanno ripetuto tante volte Shrub e company che indietro non torneremo più poi uno ci può credere può non crederci andremo verso l'intelligenza artificiale la robotizzazione in tutto eh compriremo tutto online ci vorrà il green pass o comunque sia il q code per aprire il conto in banca per venire a comprare l'oro anche da te e ci sarà una situazione per cui sarà un mondo un mondo completamente diverso ehm in cui eh in cui la 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 proprietà privata ha questo grosso problema allora vedremo un attimino gli sviluppi ehm che ci sarà con la reso no io naturalmente valuterò bene e come sempre come dico sempre io poi scelgo quello che va bene a me perché quando una cosa è soddisfa a me soddisfa anche il mio cliente via di prossima certo di aver capito bene i bisogni e le esigenze che ha e volevo parlarvi proprio di questo ora qui oggi non è potuto intervenire Sandro che è la persona con la quale io ho il contatto a Zurigo con questo cavo no? Swiss Gold Safe si chiama che è l'azienda che io ho un po' selezionato per coloro che comprano un certo quantitativo e che non lo vogliono tenere in Italia eh quindi o noi prendiamo l'oro esce da fare una procedura particolare con il corriere esce da prenderlo portarlo in Svizzera e questo in linea di massimo è un'operazione che si fa con Antonino perché Antonino ha un banco metalli è inutile che io vada a comprare l'oro che poi mi costa di più e non ci sono margini va bene quindi oltre diecimila eh euro secondo me uno dovrebbe sempre eh eh pensare di fare questa operazione di prendere l'oro ehm fare tutta una procedura un'organizzazione di trasporto trasporto non è un problema no però c'è quella procedura lì della WIF che c'è da fare la dogana che è un po' complicata però questa si può risolvere si mette comunque tutto nero sul bianco però loro si mette al sicuro perché anche se poi dovessero alle brutte ehm insomma passare insomma ehm e mettere un decreto no per cui io l'oro non ce l'ho io sì lo comprate ma l'ho portata in Svizzera ma la prende Svizzera voglio vedere che dice sta esaliando no? non può succedere niente vuoi mettere in galera? mettimi in galera ma tanto l'oro non te lo do perché è Svizzera ecco ma anche un po' può essere un pochino previdenti in questo in questo caso qua per chi vuole fare piccoli investimenti e ovviamente c'ha diverse possibilità un investimento unico da comprare fino a 10 mila euro e tenerli in casa va bene io suggerirei di comprare argento più che tutto oro che è più facile no? un domani eh se 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 insomma c'è una situazione per cui da comprare delle pane ci abbiamo le monetine dei lingottini di 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 argento e e poi allora a quel punto può nascorderle in casa può mettere una cassettina di sicurezza ecco però sempre in un certo un certo quantitativo non suggerisco di comprare l'oro fino a poco tempo fa c'era questo banco metalli no? adesso abbastanza eh popolare che poi sono quelli che stoccano in Italia quindi no eh queste problematiche che dicevamo quindi un po' così secondo me che addirittura suggerivano di seppellirlo in giardino cioè ognuno può fare quello che vuole dell'oro però quando si parla anche di oro etico si parla anche di oro spirituale se avremo di di valore energetico se avevamo qualche minuto magari ve lo ve lo ripeterò questa storia qua che è anche un po' una storia mia eh questa qui che dico del del sole invictus collegata all'oro anche lo stesso Jordan Max e altri attori molto famosi in America non l'hanno mai trattato in maniera chiara comunque a parte questo diciamo la persona che mi contatta mi contatta e mi dice guarda io ho questa esigenza così e così e così a seconda delle esigenze diciamo che con questo gruppo di lavoro che stiamo che abbiamo creato si soddisfa il 90 99 per cento delle delle dei bisogni del cliente che poi in un'ottica che io chiamo di marketing strategico l'ho chiamato in maniera impropria è così però non ho trovato un altro nome diciamo è quella è quella forma di quella procedura quella metodologia di lavoro per cui c'è un problema un progetto sul quale si lavora ci si mette a sedere e si risolve il problema e poi alla fin fine sono tutti contenti e che poi tante volte quando si fanno questi contratti si arriva alla fine c'è sempre qualcuno che c'ha da ridire diciamo idealmente almeno dal punto di vista così teorico l'impostazione di base è questa quindi se non c'è un po' di onestà e anche chiarezza in quello che si vuol fare si fa si fa più fatica allora facciamo un esempio c'è una persona che vuol fare un piccolo cominciare a fare un piccolo piano di accumulo no dice voglio fare un piano di accumulo beh in questo caso parliamo con claudia perché io picchio il piano di accumulo che ricordo per correttezza lo devo dire anche ovesta va fa l'azienda tedesca con la quale ora ma che sostanzialmente sono le stesse condizioni cambia poco ma lasci questo rapporto con claudia facciamo con claudio va bene poi se invece uno vuol fare un certo tipo di investimento e dal mio punto di vista essere certo di quello che compra perché c'è quella che si chiama proprietà frazionaria frazionata che certifica il possesso reale effettivo di quello che compra in germania quindi puoi stoccarli in svizzera per un certo tipo di investimenti diciamo oltre 20 mila euro 25 mila euro allora si va con l'azienda tedesca oppure come dicevamo prima per piccoli investimenti oppure per coloro che vogliono proprio comprare in maniera ottimale anche loro è perché non vi nascondo che c'è una certa convenienza antonino ha comprato da te nonostante costi di trasporto perché sono li prende e lo lascia lì non ha bisogno dell'oro non ha bisogno di flessibilità no allora conviene sicuramente quella quella via lì a ovesta ha la caratteristica diciamo unica che è quella che presenta la maggiore flessibilità a ovesta non è un'azienda economica io lo dico c'è un certo spread che è intorno al 11 per cento diciamo così e poi man mano insomma varia secondo dei pacchetti però è un'azienda che è una realtà è un'azienda che è presente in 150 paesi al mondo che ha cento da bilanci certificati presso la brinks e ce l'ho qui è se lo volete vedere a 105 gestisce 150 milioni di dollari eh no da clienti eh insomma è un'aziendina niente male ha 15 anni di esperienza vengono naturalmente da un'esperienza precedente e almeno dal punto di vista della gestione sono svizzeri sono tedeschi ma lavorano come si lavora in svizia va bene e quindi sono altamente affidabili hanno la grande qualità che te compri l'oro va bene c'è lo famoso spread però una volta che te poi compri l'oro ti fanno vedere dove te lo mettono io suggerisco il deposito in svizzera quindi c'è tutti i lingottini con il tuo codice li puoi vedere sul sito ricordo che io offro anche il servizio un servizio che non fa nessuno per quello che mi riguarda in italia almeno nel settore nostro cioè io faccio il tour preventivo se non lo vuole fare per fargli vedere tutte queste belle cosettine se ci si collega sul mio sul sito vi faccio vedere anche prima di aver aperto il rapporto va bene ecco quindi a quel punto viene investito tutto in oro principalmente ma anche in argento platine palladio volendo anche se io punto sull'oro anche perché sull'oro non ci sono tasse e quindi poi ci sono meno problemi ed è sicuramente più rivendibile che gli altri metalli secondo me e però poi magari hai bisogno di 500 mille euro insomma per fare non so delle spese particolari non svendi l'oro li chiami li comunichi io comunico la mattina che voglio 500 euro sul mio conto la sera c'ho i soldi sul conto con una fi minima c'è una firma non so se lo 0,2 per cento 1 per cento una cosa di questo quindi è molto pratica soprattutto per coloro che hanno un mezzo programma di trasferirsi all'estero è il classico triangolo legale legalissimo che ti puoi attivare con praticamente e costi zero perché te lei praticamente quello che vuole fare dalla tua banca e vieni da me apri il conto prendi la residenza in tanzania ti apri il conto corrente presso la banca numero uno con la con la quale lavoro in tanzania ovviamente le banche che cominciano ad essere anche lì a fin sempre banche e claudia però insomma sono affidabili è per quello che riguarda la gestione dell'asse e poi te ti trasferisci tutto da questo punto dalla svizzera c'è dall'azienda tedesca direttamente in tanzania no quindi non hai più bisogno di rendere conto di niente a nessuno perché è chiaro che appunto non passando più unifico non transitando più dall'italia praticamente il circuito bancario perde il controllo del 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 tuo denaro e questa azienda in germania non è un istituto bancario quindi è completamente scollegata dalla polisi o qualsiasi provvedimento che invece le banche devono magari seguire nel momento in cui c'è il solito decretino la solita cosa ecco ecco diciamo che eh l'aspetto più importante a mio avviso fra quelli che abbiamo analizzato è quello del deposito io ve lo ricordo in relazione a quello che posso aver capito io ehm quindi eh come ci diceva prima Antonino eh e lo stoccaggio in Italia sì è possibile ma prima di tutto costa un'esagerazione rispetto ai costi che conosco io e poi è sempre eh una cosa che fanno ma che ma che fanno no per accontentare magari il cliente ma che poi tengono un pochino tutto lì il segreto perché non si deve non c'è chiarezza scusate mia io per carità di Dio a me piacciono le cose chiare nero su bianco si fa un progetto e io cerco sempre di dire uno due tre queste sono e dico insomma tutto quelle no il diciamo le fasi eh con tutti ma magari i vantaggi e e se c'è qualche svantaggio bisogna dire anche gli svantaggi va bene ecco ora io mi fermerei un attimo prima magari di ridarti la parola eh Antonino per chiedere se magari c'è qualcuno in linea che ci sta seguendo che ha delle domande prego non siate timidi avete sentito bene vero sì io ho una domanda prego Erika buongiorno ciao buongiorno volevo domandare eh alla signora eh Claudia eh che cosa intendeva con questi ehm eh acquisizioni di capitali non mi ricordo esattamente la parola con cui aveva ehm specificato questo nuovo prodotto della sua ditta se poteva spiegare un po' più approfonditamente benissimo grazie Erika prego sì Erika buongiorno allora eh funziona in questo modo noi abbiamo creato noi in realtà i tre direttori commerciali svizzeri che hanno accumulato eh a parte decenni e decenni di esperienza nell'ambito imprenditoriale piuttosto che di costruzioni di reti consulenza finanziaria quindi sono persone che sono state identificate dal direttore commerciale svizzero che aveva questo questa visione diciamo di approdare in Italia e sono appunto diventati i direttori commerciali della società italiana del marchio Elior che vi ho raccontato prima e eh hanno lavorato sono tre anni che lavorano ad un progetto internazionale nel senso che eh è stata fondata questa nuova società con sede a Lugano che si chiama Excelior quindi il marchio sarà Excelior che avrà sempre come partner l'azienda Resonor che è la nostra mamma eh svizzera di trentasette anni di onorata esperienza insomma conosciuta tra le migliori aziende che operano in questo settore anche per serietà per per etica insomma poi conoscendo i titolari eh magari avrete modo di rendervene conto e quindi eh verrà lanciato a livello internazionale il quattro di dicembre questo progetto che semplicemente permetterà in tutto il mondo di eh vendere a coloro che sono interessati quindi non più in Italia ma a livello globale eh gli stessi prodotti che attualmente abbiamo in Italia quindi noi siamo soprattutto specializzati sui piani di accumulo ma sarà possibile anche acquisti fare acquisti in unica soluzione quindi in tutti i paesi del mondo in questa fase quindi da oggi fino al quattro di dicembre per coloro che lo desiderano c'è la possibilità di diventare cofondatori cosa significa? Eh significa che viene ehm sottoscritto un contratto di collaborazione con l'azienda con la Excelior anche se poi in realtà non esiste alcun obbligo di sviluppare questa rete internazionale quindi non non c'è un vincolo diciamo di azione ma c'è la possibilità eh dando diciamo una quota che va da un minimo il pacchetto minimo è di settecentocinquanta franchi svizzeri fino ad un sono quattro quattro tipologie e ce ne sono determinati numeri no? Eh fino ad un massimo di semila franchi svizzeri che ehm che danno diritto appunto a partecipare vita natural durante al fatturato di questa azienda il fatturato che svilupperà questa azienda quindi faccio un esempio il pacchetto quello che sta andando a ruba che è quello che costa sei mila franchi svizzeri ce ne sono cento della tipologia eh ieri ce ne erano rimasti una trentina circa quindi diciamo termineranno presto ma comunque per farle l'esempio eh ipotizziamo che l'azienda fatturi eh un milione di euro che è una previsione abbastanza ragionevole non dico il primo mese ma nel giro di qualche mese eh verrà calcolato il quattro per cento su questo milione di euro verrà diviso fra cento fra questi cento pacchetti ognuno riceverà eh la un centesimo di questo quattro per cento semplicemente quindi è una non è non siamo soci azionisti perché questa non si parla di azionisti perché l'azionista partecipa all'utile se c'è quindi bisogna vedere se l'utile c'è la cosa straordinaria che invece come co-founder noi possiamo partecipare al fatturato della società eh questa è la cosa interessante quindi eh io poi ripeto Erika se lo desidera le posso mandare il video che è molto esplicativo che spiega proprio nel nel dettaglio come funziona ed è una cosa straordinaria io vi dico per esempio ho aderito come founder quindi la prima fase è stata per i fondatori di questa azienda io ho aderito in modo molto importante perché credo tantissimo in questo progetto quindi è stata riservata questa questa possibilità soltanto a coloro che fanno parte già della rete cioè tra i gold advisor perché a noi non interessa non interessano persone che vogliono fare scalate per esempio si possono acquistare fino a dieci pacchetti perché noi vogliamo comunque che siano persone interessate a sviluppare questo questo progetto a livello internazionale ecco però ripeto eh le le posso inviare con piacere il video che è davvero esaustivo dove troverai tre direttori commerciali che spiegano nel dettaglio il progetto e poi se se lo desidera insomma si può si può aderire ecco spero di averle dato qualche indicazione in più sì sì grazie ma se mi può sperire via whatsapp che c'è il mio contatto volentieri guardo molto volentieri volentieri certo sì ci penso Erika va bene più tardi quando finiamo va bene ecco benissimo altre domande sì sono Cristina volevo sapere dalla signora Claudia come risulta questo investimento poi come un investimento all'estero a livello fiscale dico io grazie sì grazie Cristina per la domanda allora l'investimento si firma un contratto di collaborazione e l'investimento è come risulta come provvigioni ricevute dall'estero da una società estera quindi poi ovviamente a livello fiscale ogni persona dovrà interpellare il proprio commercialista il proprio fiscalista perché ognuno avrà le proprie esigenze e tra l'altro poi questo queste provvigioni le definiamo proprio provvigioni perché sono provvigioni andranno in un wallet dove la persona potrà chiedere di essere liquidata mensilmente o quando lo desidera e addirittura c'è la possibilità di essere liquidati anche in criptovalute e essere liquidati anche in un conto intestato sempre alla persona che ha firmato il questo rapporto di questo contratto di mandato perché per un discorso ovviamente di massima regolarità con l'antiriciclaggio ma può ricevere denaro in qualsiasi parte del mondo però è inquadrato come provvigioni da società estera ecco spero di avere sì grazie ho capito grazie molto chiaro di nulla cristina grazie per la domanda posto benissimo va bene dai erica ti mando il link più tardi che anche coloro che che desiderano sì sì che desiderano il link me lo chiedono e glielo mando va bene grazie mille prego prego anche per me dottor max d'azio scusami va bene se mi scrivete un messaggino veloce non me lo voglio scordare felice me lo ricordo però siccome assolutamente sì grazie ecco ecco benissimo prego dimmi allora scusami claudia allora mia sorella sta chiedendo ovviamente quali sono i criteri per i quali poi vengono distribuiti questi utili insomma fatturato eccetera prego allora questa è una società che è stata già costituita a lugano quindi considerate che a lugano sono molto più rigidi dell'italia in italia c'è il controllo unicamente della banca d'italia mentre a lugano ci sono due organismi di controllo immaginate ben più severi dell'italia perché insomma la svizzera è notoria per no ma a noi piace così quindi detto questo ci sa c'è un bilancio c'è un bilancio regolare quindi regolarmente come dire creato quindi così come c'è il bilancio anche per la società italiana e noi abbiamo visto che in 30 mesi si è prodotto un fatturato di 7 milioni di euro in questo periodo noi abbiamo fatto una stima prudenziale questi sono ovviamente il milione era per fare un esempio poi noi speriamo ad avere ben più di un milione però ovviamente sarà tutto sancito e questo questo fatturato deriva dal nel momento in cui si fa un piano di accumulo quindi noi siamo specializzati sui piani di accumulo quindi eh all'inizio di questa l'accensione di questo piano di accumulo si versa un dieci per cento del montante in euro quindi facciamo l'esempio semplice eh io faccio un piano di accumulo di cento euro per dieci per cento venti mesi poi dopo c'è una grande flessibilità ma adesso non mi dilungo sull'aspetto del piano di accumulo quindi io accumulerò dodici mila euro in oro che acquisterò mese per mese quindi giovando anche delle quotazioni speriamo Antonino che no dicevamo prima che possano scendere nel corso della del percorso quindi viene versato all'inizio il dieci per cento nella fattispecie sono mille duecento euro che servirà per diciamo gestire le spese amministrative durante tutta la durata del piano al termine del piano di accumulo a regolare il termine del piano di accumulo il cliente riceverà i dodici mila euro che ha versato mese per mese rivalutati a seconda della quotazione e riceverà anche quel quei mille duecento euro che però non saranno rivalutati perché saranno stati considerati come una sorta di cauzione quindi verranno ripagati in oro al termine ma non rivalutati questo sempre per la massima trasparenza come piace a me e a noi quindi il fatturato dell'azienda deriva dalla sommatoria di queste quote doc che si sono definite quote doc che sono nient'altro che il dieci per cento dei piani di accumulo che noi stipuliamo quindi è tutto assolutamente alla luce del sole non ci sono zone d'ombra proprio perché veramente io come dico sempre io non ero interessata a fare questa attività ho deciso di farla per due motivi primo motivo perché mi sono innamorata di queste persone perché sono tra le persone più corrette che io abbia mai conosciuto in vita mia e glielo dico sempre perché non fossero stati loro io probabilmente non avrei iniziato secondo motivo perché mi piaceva l'idea di portare avanti questa missione di conoscenza e di poter tra virgolette passatemi il termine forte salvare le famiglie e le persone quindi è tutto completamente alla luce del sole tutto ovviamente ogni piano di accumulo al suo contratto quindi non c'è spazio anche volendo non si vuole ma anche volendo non c'è possibilità di falsare questi dati prego ci mancherebbe benissimo altre domande cantonino prego se vuoi aggiungere qualcosa anche di so che è una grossa esperienza anche a livello minerario no mi piaceva spiegare quello che facciamo noi come anche in questo ambito se noi non siamo un'azienda strutturata per poter fare piani di accumulo per poter fare tutte quelle cose che sicuramente sono molto interessanti per chi ha bisogno di fare quel tipo di investimento mi mi piacerebbe definirci artigiani dell'oro noi cerchiamo di acquistare loro chiaramente nella migliore condizione possibile e nel massimo della legalità perché la nostra missione e cerchiamo di avere uno spread minimo sul prezzo dell'oro in modo da poter offrire ai nostri clienti il prezzo più conveniente su questo mi permette non è per fare pubblicità mi piacerebbe che andassero i nostri tuoi amici che ti seguono andare a vedere il nostro sito dove azmetalli.it semplicissimo ci sono le foto dei nostri lingotti ci sono i prezzi chiaramente che cambiano ogni minuto e ripetono non sono un grande editore non mi piace fare pubblicità però vorrei che notassero che i nostri prezzi sono penso i più concorrenziare di quelli che infatti io te l'ho detto quello che dovresti fare non mi piace fare non mi piace fare le pubblicità comparative sono contro la mia allora te la dico io sono contro la mia mia visione però mi piacerebbe che i clienti vedessero questo tipo di offerta che noi facciamo e l'altro l'altra cosa importante che noi comunque lo allora la media di spread sui nostri sul nostro oro non supera e va tra il 2 e il 3 per cento ecco questa è cosa importante 2 e 3 per cento non voglio però per correttezza visto che giustamente abbiamo parlato di tutto il resto 2 e 3 per cento è un po' diverso quando chiaramente quando lo ritiriamo però applichiamo anche noi un 2 o 3 per cento dipende dalla quantità soprattutto dalla pezzatura del lingotto perché noi vendiamo allora ci sono tutte le pezzature di lingotti chiaramente più piccolo il lingotto maggiore è l'influenza della mano d'opera per poterlo realizzare quindi se è più grande per esempio le faccio un esempio adesso sto aprendo il lingotto da un chilo loro ha chiuso venerdì a 80 e 48 quindi un chilo d'oro costava venerdì sera ieri sera 80 mila 480 ok il nostro lingotto certificato dai nostri marchi vuol dire come marchiamo con loro pure il nostro marchio di fabbrica qualunque roba succeda noi siamo responsabili civilmente e penalmente di quello che dichiariamo costa 82 mila 0 97 se voi fate il conto non è non c'è più del 2 per cento questo era un ore di per onestà il momento in cui ok costa 80 mila 480 noi lo vendiamo certificato fatto lingotto bello con la confezione spedito dove volete voi ok casa vostra alla vostra banca dentro un cavo che decidete voi costa così con la confezione con tutto insieme calcolato se dopo dieci giorni decidete che loro da 82 è andato a 90 ok noi al 90 meno il 3 per cento quindi 2700 a 87 e 300 se ve lo ricco ve lo riacostiamo ecco questa è la garanzia che dicevo prima cosa più importante in questo caso siamo siamo mi perdona non voglio fare no è però una cosa si è una cosa diversa diversa dell'offerta no certo siamo fantastica no mi sono parlato devo dire un'altra cosa perdonami sono finito però tanto continuo allora allora dal punto di vista del marketing strategico antonino sei troppo onesto nelle cose no è la verità che c'è i prezzi migliori sul mercato si lo so io potrei anche dirti con tuo permesso che i prossimi dieci clienti che vengono no te li dai la garanzia che il prezzo che tuo che te in quel giorno presenti sul sito sarà il più basso del mercato ma lo devi dire ho capito quindi a quel punto non è che fai una cosa scorretta ma enfatizia al cento per cento per cui non sa che quando viene da te compra sicuramente al miglior prezzo del mercato per questa tipologia di acquisto quando mi definisco artigiano perché i lingotti li facciamo noi siamo tra i pochi che li stampano anche la maggior parte dei venditori se fanno si sanno fare poi vendono quell'altra cosa che mi sembra giusto ma non è per farci ripeto pubblicità ne facciamo tantissime anche conto terzi per altre aziende quindi chiaramente per capirsi sono di prima mano non c'è nessun passaggio di però dato che voglio essere corretti anche per le aziende per le quali lavoriamo certo non mi sembra essere non mi piace dire che siamo i più fenomeni del mondo cerchiamo di fare il meglio che possiamo e controllate mi fa piacere che allora diciamo che probabilmente acquistando presso se si compra il prezzo migliore poi ripeto certi tipi di servizi non siamo in grado di poterli fornire non è il nostro campo e quindi alza le mani chiaramente poi invece uno vuole comprare il suo lingotto guardarselo guarda che bello e di venderlo dopo un anno e guadagnarci il 50 per cento noi siamo in grado di fare abbiamo chiarito che questo aspetto che si può fare anche ora sull'argento per gli altri metalli che ha detto devo ripeto mi dispiace perché c'è il fatto del lì anche per tutti che si lo so negli altri metalli che lavorate anche altri metà si non si possono si possono comprare anche loro con iva tutti gli altri metalli preziosi però mentre sull'oro diciamo così c'è un aspetto speculativo importante per il quale e fa cioè è più facile secondo me tranne dei vantaggi sono degli sbalzi ripeto adesso secondo me molto alto però ci sono stati ripeto nei 40 anni ho visto tutti i colori e faccio un esempio giugno 2005 oro costava 10 euro e 60 ok maggio 2006 costava 18 euro e 35 quindi ha fatto più 80 per cento in 11 mesi settembre 2006 è andato da 18 è andato di nuovo a 13 poi da lì è sempre salito per pesare ricorda quella fase lì un altro momento in cui c'è stato un momento in cui la gente che sapeva un poteva muoversi è stato nel 2012 2012 è toccato un record nei primi mesi 2012 che era intorno ai 45 euro al primavera 2012 autunno 2012 è andato a finire 29 45 29 quindi questi sbalzi qua sono significativi poi dal 29 non ha mai più avuto il segno negativo è sempre salito dal quindi dal ottobre novembre 2012 a oggi siamo passati dal 29 agli 80 senza mai praticamente tornare qual è l'azione la compagnia che ha avuto lo stesso incremento compagnia assolutamente non esiste poi non c'è il rischio però ripeto dato che purtroppo di capire non c'è il rischio e allora io dico sempre investire in oro vuol dire non avere fretta di realizzare devi avere la possibilità di sapere che hai un valore certo ma non devi avere la fretta di poter tanto prima o poi non è insito né né esatto prima o poi sicuramente trovi il momento in cui lo vendi più caro di quanto l'hai comprato però non devi avere la fretta ma poi c'è anche un aspetto da considerare che spesso si è sottovalutato e non c'è coefficiente di rischio quando fa un investimento una delle investimento buono ma c'è un rischio alto quindi bisogna sempre considerare che nel loro non c'è il rischio male che vada lo deve tenere un anno lì perché loro è andato un attimino giù però l'anno dopo di ti riparte e di nuovo il trend positiva invece in tutta l'altra immobiliare tutto il rischio enorme poi perché riesce a prima grande le sette sarà veramente insomma poi ci sono stati dei periodi anche molto lunghi in cui loro è rimasto costantemente alla stessa cifra io ho ripetato che purtroppo non sono più di prima un altro grande momento c'è stato alla fine degli anni 70 78 79 l'oro dai 3 mila lire al grammo è andato a finire 18 mila del grammi quel 18 mila del grammo dal 78 79 che equivale a quasi 10 euro è durato fino al 2005 come mai secondo te perché c'era una stabilizzazione di quel prezzo che non ha mai dato del modo di poter avere speculazioni esageratamente quindi ci sono dei momenti in cui perché è lungo il periodo è dall 80 al 2006 sono 25 anni in cui infatti quando c'è stato il passaggio di ra euro era sempre intorno ai 10 è andato a del 18 è sceso si nel 91 è sceso 11 mila euro c'è stato un momento più basso però 18 11 ma la costante è sempre stata 18 20 mila euro che sono i 10 euro che ti dicevo poi dal 2005 in poi c'è stato il balzo c'è anche un momento particolarmente favorevole perché mentre prima si faceva appunto come dicevi te si poteva pensare all'investimento nel medio e lungo periodo e adesso in un anno ha fatto un 35 per cento e benissimo avete altre domande per caso ci stiamo avviando credo alla chiusura almeno della mattina ora poi vediamo il pomeriggio se i nostri amici possono rimanere vogliono rientrare e magari altrimenti chiudiamo qua tanto insomma le cose si sono dette avete altre domande approfittate per fare tutte le domande che volete domande si brava 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 se ci vuoi fare un salto lo sai dov'è qui a rimanere a pranzo si rimane a pranzo si va tutti a pranzo siamo tutti no poi a casa siamo 24 6 7 7 parla con parla con jackie grazie allora benissimo abbiamo risolto anche il pranzo avete altre domande allora vi parlo io adesso di una cosa no sulla quale sto lavorando è un'amica mi ha chiesto di analizzare il suo investimento che ha fatto nel 2019 anche se l'ha fatto poi con l'ex marito con la mamma insomma e ha investito una certa cifra con questa azienda che inizialmente si è presentata come un'azienda finanziaria con un contratto che non è ora un bel contratto scritto bene poi dopo un anno due anni dopo le hanno praticamente suggerito di investire queste cifre in oro bene quindi il contratto è rimasto praticamente lo stesso però i soldi dovevano essere investiti in oro a fronte di questo contratto le avevano garantito il 3 per cento al mese nella prima fase e il 4 per cento al mese nella seconda lei probabilmente la persona che non era molto pratica di queste cose qui ha firmato questo contratto e naturalmente siccome era una cosa abbastanza delicata ho deciso anche di coinvolgere e marco il mio avvocato perché era un contratto se si tratta di analizzare tutta una serie di posti un po' in garbogliato prima la sede era a parigi poi era a milano controllo l'indirizzo non esiste niente insomma una cosa un po così e quindi ecco non vi voglio dire insomma adesso ancora tutto in lavorazione non facciamo nome e cognomi però state attenti a tutti coloro che vi garantiscono vi promettono degli interessi a medio termine nell'investimento che fate perché purtroppo all'interno dell'albo lo sai bene ci sono operatori che sono operatori di borsa non ce l'hanno neanche l'oro il vostro non comprate niente non comprate niente l'oro a sottostante non c'è e quindi il è chiaro che il 4 per cento all'anno sono il 50 per cento quasi non due anni e la doppia capitale insomma bisognerebbe che sia legale quindi esatto e quindi dobbiamo poi non hanno seguito le procedure che dovevano seguire come al solito e mi dicono che anche un'azienda che si presenta bene che c'ha diversi uffici uno a milano uno di qui uno di là state attenti a queste aziende che si presentano molto 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 bene perché insomma ve lo dico per esperienza no e si ritorna a quello che si diceva prima se un'azienda si presenta bene e c'ha un ottimo contratto ed è tutto in ordine benissimo però ci deve essere tutto in ordine e invece in questo caso il contratto il contratto c'era un contratto purtroppo che non andava bene sotto tutti i punti di vista adesso abbiamo fatto una certa operazione e vediamo quello che viene fuori approfitto di quello che stai dicendo si si per quello che succede anche nel nostro campo noi come operatori del settore siamo bersagliati tutti i giorni da decine e decine di proposte di oro che arriva dall'Africa da sud a miglia da dovunque che sono dei tentativi chiaramente di truffa perché negli anni si sono specializzati all'inizio si all'inizio cercavano di avere un acconto per le tasse o per pagare l'apporto adesso fanno dei contratti anche molto ben fatti e compagna bella e ti chiedono però una fiduzione bancaria o un qualcosa che la maggior parte delle persone che non è appunto avvezza queste cose diciamo che non rischio la fiducia a parte che la fiduzione ha un costo perché non è che e poi la cosa che loro dicono cioè quelli più svegli dicono vabbè te lo garantisco con una controgaranzia che comunque non arriva e la maggior parte poi però ti chiedono la fiduzione per la produzione di una miniera di un anno quindi tu per quell'anno in qualunque momento tanta gente non sa che quando fai una lettera di credito a favore di qualcuno e te lo firmi per un anno anche se nel contratto tu dici se entro un mese non mi dai quello che mi devi dare l'unico al mondo che ti può ridare la fiduzione e il beneficiario e di conseguenza quello si tiene la fiduzione e tu rimani bloccato con perlomeno con i soldi che hai in banca quindi attenzione assolutamente perché loro non se vi propongono dell'oro proveniente del tutto legale ve lo propongono non sono stupidi però con degli sconti esagerati delle quantità non prendete in considerazione perché sono veramente non è o no cercano di in qualche modo o in un modo o nell'altro cercano di raffare qualcosa loro a dei margini minimi neanche comprati direttamente dai produttori parliamo di decimi di punto punto percentuale tutto quello che che va oltre lo sconto lo tieni perché devi andare a prenderlo e da raffinare e da purificare da portare a casa pagare l'età se no loro costa uguale dappertutto che sia in tanzania che sia dove vuoi il prezzo è questo benissimo ragia che antonino ha parlato di questa cosa di vi racconto anche come sono entrato in contatto con tonine perché no perché anche certo si parla di oro di storia 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 per modo di dire di insomma di esperienza diciamo così su loro allora tramite un amico e io sono entrato in contatto con diverse diversi broker chiamiamoli così no gente che si presentava con dell'oro in tanzania essendo lì io volevo anche approfondire questa cosa perché sinceramente una delle ragioni più più così no di eccitazione andando lì di cacell'oro metta a ricercare l'oro no come si faceva già una volta le ruscelli una cosa gamba da fare e quindi non avevo niente da perdere e allora ogni tanto mi presentavano quello quell'altro che veniva sai io chiedevo una cosa quindi tutti avrò avuto 50 60 meeting ogni volta dovevo frilla soda tante volte da mangiare a questi qui insomma una cosa così poi non c'è niente non è venuto fuori nulla insomma poi ultimamente sono entrato in contatto per cercare di insomma di fare anche qualche cosa lui ha dato naturalmente antonino il proprio contributo mi ha detto stai attento di qui e quindi purtroppo per il momento non è venuto fuori niente ma noi ci stiamo sì no bisogna essere che lo trattano è problema che per poter ottenere delle forniture non si può andarla solo con i soldi e pensare di comprare no no devi avere un rapporto continuativo con forza che lavora lì e aiutarlo allora ci può essere un rapporto i soldi come ne abbiamo noi ce l'hanno tutti e il prezzo è uguale per tutti chiaro che se sia noi nelle volte che abbiamo ottenuto dei vantaggi perché abbiamo portato no a una foto aiuti e non portato abbiamo fatto dei lavori allora in qualche modo una mano lava l'altra lavoriamo soprattutto serietà di base assolutamente sinceramente per il momento ecco non ho non ho trovato noi siamo i più esperti nella parte del west africa anche perché io parlo meglio francese e lì c'è il modo di fare che si chiama gagnant gagnant guadagni tu però devi far guadagnare qualcosa anche a me però se faccio un esempio in una piccola miniera che estraggono un chilo al mese gli porti vantaggi per cui ne estrai cinque alla fine del mese è chiaro che un vantaggio che deve dare non ti darà mai il 10 per sé però quel piccolo vantaggio che ti fa in modo che ti ripaghi gli investimenti è la fornitura ecco questo è il lavoro che tieni presente che tieni presente che io personalmente non posso sicuramente prendere un impegno così ma tecnicamente con i soldi vai compri una miniera mi sembra ci voglia cinque milioni di dollari e controlli cento per cento della miniera perché altrimenti non lo può nemmeno fare cioè devi fare la società con un tanzaniano capito che si può fare anche quella cosa lì però naturalmente un discorso è controllare completamente l'azienda cento per cento un discorso è subordinato a qualcuno che magari poi li viene mal di pancia o qualche cosa c'è un ospedale sempre bisogno di qualche cosa sai ecco e però o queste ci sono grandi aziende in tanzania azienda numero uno a santi come si chiama quell'altra famosa shanty lascianti poi c'è quella angolo gold e poi c'è quell'altra grossa come si chiama a newmont la rio tinto ci sono tutti se ci sono ci sono le tre o quattro aziende principali ci sono praticamente tutte la barri barri bari bari si c'è anche quella lì e quindi questo sono delle mezzo sono delle realtà incredibili ma ci hanno dei margini mi dicevano queste grosse aziende del 50 60 per cento sì il problema del medico sono tutte cose interessanti la grossa azienda prima di poter mettere una miniera vuol dire che ha fatto ricerche minerarie per i milioni e milioni e la cosa più costosa è la ricerca perché prima di mettere una barri quando fa per una miniera vuol dire che sta a parte la ricerca che ha speso già 50 di 6 accidenti anzi si fa una ricerca come si deve per vedere e tieni conto che la cosa più importante che la gente non sa che di miniere che diventano industriali nelle ricerche minerarie ce n'è uno su cento accidenti e altre 99 diventano miniere o artigianali o che non vale la pena fare e questo per quale ragione perché è stato fatto male la ricerca prima che lì qui c'è un mondo la ricerca mineraria deriva da una serie di constatazioni che prima prima di tutto quelli che fanno ricerche nel mondo più accreditati e più bravi sono i canadesi e gli australiani che hanno sviluppato una serie di nozioni e di metodi che gli permettono di essere i primi al mondo poi chiaramente usano anche soldi americani cinesi quello che vuoi ma quelli sono tecnicamente più bravi nasce tutto da un indizio minerario cioè vengo da te in tanzania avvetto mi dice guarda che la scavano loro a mano da lì dici va bene loro stanno scavando da lì si parte facendo sicuramente un'indagine satellitare per vedere com'è il movimento all'interno del di dove stanno scavando perché la maggior parte dei giacimenti che sono giacimenti alluvionali sono fatti vicino ai fiumi no però il fiume che sta passando in un certo luogo non è detto che passava sempre di lì magari nei secoli passati passava da un'altra parte e da sopra lo vedono quindi va a finire che c'è più oro nella vallata a fianco che allora lì comincia la ricerca ricerca vuol dire fare migliaia e migliaia di perforazioni all'interno dell'area a diverse profondità ma parliamo di 20 30 mila sondaggi no alla fine della della ricerca mineraria quando si ha una media di percentuale di metallo prezioso che ti soddisfa e riesce a fare un calcolo che con l'investimento che fai e tutto è se la cosa funziona è come se tu avessi una segna circolare in manta perché una volta certificato quel tipo di operazione tu loro sei sicuro che c'è perché è un studio scientifico no dire come se tu fai praticamente fai conto di vedere un grosso cubo dove in ogni punto in ogni angolo hai fatto il calcolo matematico è quello lì perché qui c'è quello la media è quella appunto tu sai che lì c'è un quando dicono i tenori quando c'è le riserve che passano attraverso due o tre tipi di diverse possibilità ci sono quelle possibili quelle probabili e quelle certe quelle certe vuol dire che si è arrivato alla fine e tu se tu sai che lì c'è quello ok vedi quanto costa estrarlo puoi fare ci sono aziende che fanno solo queste ricerche vengono quotate in borsa a toronto in canada si chiamano junior fanno la ricerca poi vendono quello che hanno trovato alle mezzo alla barriche tutto per una certa cifra è la bar che decide se questo giro mi viene in mente che l'ultima volta che ha incontrato questo avvocato di cui ti ho parlato mi ha poi mandato un documento di una ricerca fatta io pensavo fosse un business plan sono arrivato a leggere a tutte pagine pagine tecniche pagine pensi era business per la terra ma con questa cosa ci faccio io ti lo vendo ecco quindi però se ti interessa te lo mando volentieri non saper leggere tra le righe perché poi una volta stabilito quant'è la riserva bisogna vedere loro se oro libero se ero legato da quindi che tipo di impianti bisogna mettere bisogna anche studiare cosa prima ma dopo che hai fatto tutto magari ci vuole due o trecento milioni di impianti e quindi è solo appannaggio di società come la bari che ha una coppia che la zona mi sembra di 10 12 miliardi che fanno di altre cose no va bene a livello ecco però diciamo che il settore è sicuramente in crescita in settore in tanzania e che perché a parte credo il rame parte credo il rame c'è quasi tutto dire sono questione di trovare un po dei capitali e iniziare a lavorare in maniera magari un po più professionale di quella che stanno facendo oggi e qui ci vogliono persone che vengono dall'america dall'europa che hanno esperienza per farlo perché i loro poverini possono fare questo discorso comunque se c'è qualcuno che mi ascolta e che magari è interessato mi può contattare facciamo una partnership con antonino ma ci mettiamo d'accordo e diamo tutti line e conosco scherzi a parte è sicuramente un settore in crescita interessante e appassionato ecco sì 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 va bene benissimo allora avete per caso voi che siete in linea domande io non voglio ricordarlo ho detto tante volte che loro ha un profondo valore spirituale esoterico iniziatico all'interno di certi ambienti molto più importante di quello che si può pensare noi e non a caso è diventato il metallo eletto perché si è diventato quello che oggi vuol dire che c'era un bello sponsor perché non si sarebbe arrivato lì stessa cosa anche se in maniera diverta per l'argento però in termini figurativi diciamo che anche nelle rappresentazioni di una volta no quelle degli artisti eccetera se si nota oro e argento scusate luna e sole erano rappresentati con la stessa dimensione no stranamente e poi sono diventati il secondo la costituzione americana la vera moneta sarebbe in agente sapete poi dopo hanno cambiato tutto però il vero il vera moneta attualmente ancora nella costituzione americana sarebbe la gente non sarebbero i dollari e non hanno mai cambiato la costituzione eppure sono andata avanti con questa cosa anche abbastanza in maniera bizzarra e non soltanto su questa perché poi hanno cambiato altre cose senza mandare la costituzione americana quindi ecco diciamo che l'idea di trattare l'oro insomma un po come quello dei diamanti ma l'oro ancora di più bisogna avere consapevolezza di quello che si tratta di quello che abbiamo per le mani e di quello che che si suggerisce quindi decisamente non è una buona idea se perlirlo in giardino è no ecco tutto bene claudia vuoi aggiungere altro tonina abbiamo già detto molto domande bravo 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 allora se non ci sono altre domande procediamo così eh io direi di chiudere lavori qua oggi perché nell'insieme abbiamo fatto un ottimo intervento insomma vedo che insomma ci sono anche state delle persone collegate e naturalmente ringrazio tutti ringrazio antonino e claudia della partecipazione eh e do appuntamento a tutti domani perché domani io sarò ancora qua ci sarà la presentazione ufficiale della mia fondazione che ho costituito in tanzania si chiama dr max foundation che ha come missione eh principale quella di levare un po' di plastica dall'ambiente che eh in quella spiaggettina lì poi non ha nome la spiaggettina allora se faccio un ottimo lavoro magari la chiameranno dr max c'è ancora questa possibilità l'ho scritta anche per per ridere sulla locandina perché bisogna prendersi fare le cose in maniera seria ma non mai prendersi troppo sul serio eh quindi bisogna sempre affrontare secondo me le cose con lo spirito giusto eh io a questo punto chiederei eh la diretta qua eh augurando a tutti la buona giornata poi ci sono persone vedo che sono collegate che vedrò domani quindi ci vediamo domani fate buon viaggio grazie a tutti ciao alla prossima grazie prego ciao